Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo l'ultima supermedia AGU Trend dell'anno. Fratelli d'Italia è al 28,8%, il PD al 19,3%, il Movimento 5 Stelle al 16,3%, la Lega all'8,8%, Forza Italia al 7,1%. Azione al 3,8%, Verdi sinistra italiana 3,7%, Italia Viva 3%, più Europa 2,5%, Italexit 1,6%, Unione Popolare 1,4%, Noi Moderati 1,1%, il centrodestra al 45,9%, il centrosinistra al 25,5%. Il terzo polo, unendo Renzi e Calenda, sarebbe al 6,8%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.